ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video faccio subito una premessa comunque la pensiate avete tutti ragione esce o più finalmente quindi è già disponibile da ieri sull'app aggiornata quindi aggiornate l'app di un mobile a prescindere se avete android o apple e vi troverete la nuova opzione da poter attivare comunque la pensiate ripeto avete ragione allora cosa comprende comprende esattamente ciò che avevo descritto precedentemente nel video di cui ho dato anticipazione su questo servizio allora pagando un euro e 99 in più al mese che verrà decurtato dal credito residuo della vostra sim quindi attenzione se avete l'auto ricarica vale solo per l'opzione tariffaria che voi avete mentre per il rinnovo il pagamento mensile della opzione o più bisogna loro prelevano mensilmente dal credito residuo quindi in quel caso bisogna sempre comunque avere del credito residuo sufficiente quindi ricaricare avere comunque una sua gestione allora il raddoppio della velocità effettivamente c'è ed è previsto io l'ho attivato e da 30 megabit si passa a 60 megabit quindi ciò che gli altri danno gratis ad esempio che una mobile e altri operatori virtuali viene dato invece in questo caso a pagamento ma a pagamento con altri vantaggi c'è una scontistica per quanto riguarda per esempio il carburante per un determinato periodo si potrà fare carburante alla quate facendo almeno 30 euro verranno restituiti se riscattate sempre dall'app dall'opzione o più il diciamo il buono potete avere 5 euro di sconto su 30 euro ed è ripetibile questa operazione ogni mese fino a quando non scadrà l'accordo con quate poi per esempio vi sono alcuni brand purtroppo molto pochi immaginavo che fossero molti di più ad esempio adidas con degli sconti sia online che in negozi e altri brand altre marche però sono veramente davvero pochi quindi molti di voi nel video precedente mi hanno segnalato e mi hanno detto che è lo paragono un po a quando la 3 faceva il 4g pagando un euro in più a una cosa del genere allora avete sia ragione cioè avete ragione tutti sia che era pensato in questo modo oppure che pensate che visto che ormai 30 megabit sono considerati pochi anche se in realtà uno smartphone se l'operatore è equilibrato quindi comunque te li garantisce o perlomeno ti garantisce quasi tutti i 30 megabit in varie situazioni è più che sufficiente per fare qualsiasi cosa su uno smartphone però ovviamente i tempi cambiano le velocità aumentano e l'adeguamento ai 60 megabit per esempio l'hanno fatti tanti virtuali in realtà vi virtuale appartenenti agli operatori mobili che sono mobile per i mobile che la mobile solo che la mobile ha aumentato per tutti a 60 megabit ora il discorso è questo io sinceramente l'ho attivata non solo per provare se funzionano nei 60 megabit ma l'ho provata perché a me conviene farlo e io ritengo essendo un cliente mobile come mia sim principale nonostante poi ce le ho tutte le altre come ben sapete che ho testato ho scelto sul mio smartphone principale quindi il mio numero principale italiano mobile sia perché i prezzi non sono rimodulati sia perché ho una tariffa vantaggiosissima che mi costa 5 euro e 99 70 giga al mese è il volte disponibile che funziona perfettamente tenete conto che le sim o mobile sono totalmente vodafone cioè sono come le sim vodafone gestite da vodafone sia come traffico priorità in antenna e tutta la gestione appunto della della comunicazione e dei dati e del stabilità è tutta gestita da vodafone cosa che invece non accade per esempio con che era mobile che pur essendo di proprietà di vodafone e scusate di team in quel caso perdonate ha una struttura invece indipendente da team è la vecchia no verca che era un operatore virtuale che c'era diversi anni fa è stato uno dei primi operatori virtuali quindi anche lì a non sfrutta tutta la rete di trasporto di team ne usa soltanto in parte la gestione e la gestione tecnica è comunque indipendente quindi non sono sim a tutti gli effetti team ma sono ex no verca quindi con tanti problemi per esempio il volte non è disponibile ancora per tutti gli smartphone e anche i ping saranno completamente differenti quindi c'è da fare questa puntualizzazione allora io ho scelto di pagare questi è un euro e 99 in più che comunque sono disattivabili in qualsiasi momento perché non fanno parte della vostra tariffa in qualsiasi mese potete disattivarli e tornare ahimè purtroppo ai 30 megabit e non usufruire più di quegli sconti e poi riattivarlo comunque quando e se lo riterrete opportuno allora io l'ho scelto perché perché o mobile essendo come dicevo prima una sim vodafone a tutti gli effetti quindi gestita da vodafone mi garantisce quella stabilità che vodafone dove vodafone è il leader in italia significa non che vodafone va benissimo ovunque significa che in confronto agli altri operatori fisici è considerato non solo da me ma da tantissimi addetti lavori dall'agicom da da ocla da open signal da tantissimi altri la rete più stabile stabile significa che mantiene di più le prestazioni e dove è difficile è molto più difficile in confronto agli altri andare in totale saturazione dove non si può completamente navigare ciò non significa che c'è la copertura perfetta esistono dei ponti ripeto ancora una volta l'ho ripetuto in tanti video dove anche vodafone ha la sua pecca e non va bene quindi anche se me lo segnalate io vi ringrazio ma lo so ma in confronto agli altri e l'ho provato sulla mia pelle l'avete provato voi ed è stato riconosciuto anche dall'agicom comunque nei luoghi più affollati è più difficile che vodafone sia arrivi alla totale saturazione perché ha un'infrastruttura di bts e gestione delle bts a livello software anche oltre che hardware avanzatissima in confronto agli altri da sempre comunque una certa porzione di banda disponibile almeno per vodafone stessa e o mobile che comunque vi permette di fare il minimo indispensabile io sto parlando nel caso di estrema saturazione mentre gli operatori virtuali che si appoggiano ad a vodafone dipende che operatore virtuale e come sempre ho detto io vi consiglio ad esempio uno mobile che ha una buona comunque priorità in antenna ed è un buon operatore perché va su e4tel e ha anche il volt penso ormai su quasi tutti gli smartphone compatibili sfrutta molto anche la rete sua non solo di antenne ma l'infrastruttura parte dell'infrastruttura di vodafone per questo io lo consiglio infatti se fate gli speed test con uno mobile viene riconosciuto da ocla ad esempio come sim vodafone anche se non lo è poi tutti gli altri post mobile per tanti motivi ma non lo tratterò in questo motivo io non lo consiglio per niente per tantissimi motivi ma penso che forse in futuro farò un video dedicato per spiegare tutti i motivi per cui io non consiglio post mobile poi tutti quelli che vanno su plintron li ho sempre sconsigliati in quanto in caso di saturazione sono i primi a saltare i primi a bloccarsi vanno su plintron che è un enabler quindi un che dà i servizi a tanti operatori quindi è come se fosse un mv e ne ho a tutti gli effetti perché alla licenza ma non è effettivamente operativo ma da il suo servizio ad altri operatori tipo rabona e tanti altri c'è una lista infinita si mobile insomma sono tantissimi dove il ping è molto alto nei momenti di intenso traffico nei momenti di intenso traffico è possibile che in varie zone d'italia si blocchi quasi completamente la navigazione perché viene gestito tutto praticamente dall'estero e ping sono altissimi specialmente in determinati momenti della giornata allora questo era un preambolo perché già anticipo quale quelle che possono essere le vostre domande quindi ho dovuto integrare anche con questa parte qui quindi se per voi vi sembra assurdo dover pagare un euro e 99 per avere nel 2023 il 60 megabit avete ragione assolutamente è una scelta vostra condivisibile perfettamente lo stesso invece io condivido ed è anche la mia scelta quella di pagare un euro e 99 per avere i 60 megabit al secondo anche perché dai primi riscontri chi ha problemi di copertura o uno smartphone monobanda attenzione chi ha uno smartphone monobanda dove è più facile trovare una saturazione per esempio su una sola banda mentre che se avete un telefono che aggrega più bande avete la possibilità comunque di di non arrivare in totale saturazione è perché aggregando più bande quella la disponibilità appunto della velocità viene comunque anche se la bts in saturazione ne soffre molto meno che una sola banda perché per esempio potrebbe essere satura faccio un esempio la b20 ma la b3 no e la b7 si quindi se il vostro smartphone monobanda si aggancia ad esempio alla b20 allora la saturazione potrebbe essere veramente molto alta perché non riesce a compensare con l'aggregazione delle altre frequenze allora dai primi riscontri stavo dicendo chi aveva in casa delle difficoltà sia perché in casa ovviamente ci sono i muri ci sono gli ostacoli e a un telefono monobanda e con i 30 megabit aveva un certo tipo di velocità quindi anche ridotta e soffriva per esempio la riproduzione in alta definizione dei video su youtube adesso con questo momento perché dai primi riscontri ripeto sembrerebbe che comunque la situazione migliori ovviamente non toccherà i 60 megabit ma già migliora perché evidentemente la porzione di banda viene comunque allargata quindi anche se c'è sofferenza diciamo né in termine molto popolare risucchia di più risucchia di più quello che è disponibile quindi anche nel caso di parziale saturazione di un monobanda comunque si hanno dei vantaggi me l'hanno testimoniato delle persone che conosco e con cui scrivo e ci scriviamo sono anche amici me l'hanno testimoniato facendomi vedere anche degli speed test è quello che non potevano fare dentro casa tra appunto per il problema perché avevano un monobanda e sono dentro casa coi muri e la bts magari un po più lontana è quello che non riuscivano a fare in determinati orari della giornata adesso lo riescono a fare grazie anche a questo aumento di velocità quindi comunque dei vantaggi li porta ora su questo punto tecnico ci sarebbe pure da approfondire il perché ma non è neanche in questo caso il il momento quindi comunque la pensiate avete assolutamente ragione dipende ovviamente dal vostro pensiero da come vedete le cose non esiste una verità assoluta è vero che sarebbe stato meglio che avrebbero aumentato avessero aumentato la velocità 60 megabit senza farla pagare con la scusa della scontistica che poi in realtà sono poche poche le aziende con cui si possono usufruire posso capire benissimo che si possa dire nel 2023 non è una cosa che che accettabile però nello stesso tempo chi la pensa come me io lo accetto perché comunque ho dei miglioramenti e continuano avere la rete vodafone non rimodulata un mia scelta che comunque posso sempre disattivare quell'opzione e quando voglio senza essere vincolato da nulla e comunque ho un miglioramento anche in quei rari casi in cui ho una saturazione che non mi permette ad esempio di vedere i video in 4k ma soltanto a 1080 tra virgolette soltanto a 1080 oppure scaricarmi gli aggiornamenti al doppio della velocità e file al doppio della velocità sullo smartphone quindi anche chi la pensa come me ha ragione dipende ovviamente dalle opinioni io vi ricordo una cosa importante sono disponibile su instagram per far darvi consulenza per scambiarci questa anche questi tipi di informazioni quindi datemene sotto nei video in questo video mettete i like che per uno youtuber sono importantissimi iscrivetevi al canale mettete i vostri commenti qui e dialoghiamo però su instagram o al numero whatsapp purtroppo ultimamente whatsapp lo sto trascurando parecchio anche se poi comunque recupero e rispondo a tutti per tanti motivi miei privati su instagram vi intrattengo anche con notizie e parte della mia vita privata quindi con notizie private e vi invito ovviamente a far iscrivere più persone possibili al canale in modo che possiamo crescere insieme io vi ringrazio per l'attenzione comunque la pensiate vi auguro un buon proseguimento di giornata o serata alla prossima un abbraccio un saluto alla giuseppe vi ringrazio per l'attenzione